Domenia Sì, no, squadra sta bene, anche i ragazzi che erano infortunati stanno rientrando a andare meglio come Papini, Decenco, quindi penso che la squadra completa possa fare molto meglio nel ritorno. Ma inizio bene, metà campionato, insomma, insomma, ora sto ritrovando la condizione e quindi ti dico un bilancio positivo, dai, per ora. Sì, sì, noi ci crediamo assolutamente, ti ripeto, il primo obiettivo è salvezza, poi quello che viene in più si prende molto volentieri. Ma ti direi di sì e ti direi anche di no, perché dopo una vittoria così volevamo subito tutti riscendere in campo, però prendiamo sto turno in riposo, ci riposiamo e poi siamo pronti per Monza.